... che sicuramente onora questa nostra università. Sono certamente onorato di questo riconoscimento che chiaramente corona una carriera che è stata sempre impostata nel desiderio di creare rapporti e collaborazioni con i colleghi ricercatori italiani. Abbiamo una lunga storia di collaborazioni con l'Università di Palermo, ormai consolidata da molto tempo con la formazione di un programma di dottorato di ricerca internazionale che ha avuto molto successo e che sta ora portando i ragazzi alla laurea proprio in questi giorni. Quindi questo mi gratifica e mi riempie di gioia per questo riconoscimento che mi è stato dato appunto dai miei colleghi di Palermo. Grazie